La casetta di vetro di Piazza Kennedy all'attenzione della Commissione Trasparenza del Comune di Avellino. Dopo l'affidamento a settembre alla Dedona, che ne farà un caffè letterario, il presidente Iacovaccia ha più di un dubbio sugli atti propedeutici, che non sarebbero stati rispettati. Dal canto suo l'assessore Luongo non vede anomalie. La ditta sta pagando regolarmente i canoni, ma ad oggi nessuna traccia dei lavori e l'apertura fissata per dicembre rischia di slittare. Per ora rimane lì inutilizzata, finché non faranno qualcosa. Si potrebbero fare tante cose, secondo me, però per adesso rimane così. Creare un forum dei giovani, una cosa per i giovani, un'aggregazione per i giovani. Se non è utilizzata, è indubbiamente uno spreco e uno sperpero di soldi, il che non va assolutamente bene. Tutto intorno lo scenario racconta una storia già vista. Vuoti di bottiglie, giostrine rotte, la fontanella dell'acqua che non funziona, nemmeno il monumento ai marinai caduti in guerra è stato risparmiato. Insomma, la solita fotografia di degrado e sporcizia e i cittadini chiedono più pulizia e più controlli. Maggiore pulizia, un controllo da parte delle forze dell'ordine, perché qua c'è un via vai H24, speriamo nelle istituzioni. È tutto abbandonato, tutto mal ridotto e quindi che pigliano un po' provvedimento, perché comunque è un bel parco per tutti, ma è invivibile. Ho più pulizia e soprattutto più vigilanza in questo parco, perché ci sono anche molti vandali, infatti come vediamo panchine rotte, scritti, eccetera. Non è il massimo, è sporco e le condizioni sono quelle che è. Mi sembra che sia un po' sporco, per colpa della gente che butta le cicche di sigarette, quindi c'è poco rispetto della natura.